Aveva scontato tre anni di carcere per una serie di reati e ora voleva cambiare vita. Una voglia di riscatto maturata sul ring grazie all'amicizia con Mirko Ricci. Invece Cristiano Molè, il 33enne, ucciso ieri a Corviale con diversi colpi di pistola mentre usciva dalla sua auto, non ha avuto la possibilità di riscattarsi. Un cognome ingombrante, Molè, quello di una delle più potenti cosche di Andrangheta. Cristiano era molto conosciuto da queste parti, più volte era finito nei guai nel 2014, era stato gambizzato mentre stava prendendo il caffè al bar di Via Bravetta. Un uomo in sella a uno scooter l'aveva pedinato sparandogli mentre si trovava all'ingresso, poi una condanna per aver speso soldi falsi e per spaccio. Il sogno era di diventare un pugile professionista, una passione che aveva condiviso con il pugile Mirko Ricci, un altro figlio della periferia come lui, a cui il talento non è bastato per raggiungere il riscatto.